Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente certificato Autodesk da adararchitettura.com. Aiuto tutti i progettisti a posizionarsi meglio e più velocemente nel mondo del lavoro attraverso l'apprendimento di software altamente specializzanti. Oggi ti voglio parlare di un argomento che va a dare una risposta a un commento a un video precedente. Infatti una persona che ha guardato uno dei miei video mi ha fatto una domanda relativa alle dimensioni che devono avere i box prefabbricati che si utilizzano nei cantieri per quanto riguarda l'apprestamento di spogliatoi, mense, bagni, uffici e quant'altro. Dunque, ho trovato molto interessante questa domanda e ho pensato che potesse essere d'aiuto anche ad altri progettisti la risposta a questa domanda. Innanzitutto bisogna valutare la situazione del cantiere in cui ci si trova. Infatti questi box prefabbricati sono da utilizzarsi preferibilmente per quanto riguarda cantieri dove ci sono anche degli spazi grandi o degli spazi all'esterno. Quindi magari in un lotto dove c'è dello spazio verde e quindi ovviamente c'è spazio per posizionarli. In tutti i casi invece dove si lavora all'interno ed esclusivamente all'interno, quindi dove non c'è spazio fuori, questi box purtroppo non possono essere utilizzati. Inoltre, aggiungerei, hanno anche ovviamente dei costi. Pertanto, anziché pagare il nolo mensile di questi box laddove si possono utilizzare degli spazi interni già disponibili e che soddisfano i requisiti, tanto vale utilizzarli. A questo proposito voglio farti l'esempio di un cantiere che sto seguendo su Firenze, che si tratta di un grande albergo, che è situato in pieno centro storico. Pertanto, mentre all'interno gli spazi sono molto ampi e numerosi, all'esterno praticamente lo spazio è pari a zero. Questo complica non poco tutte le manovre di cantiere. E pertanto la soluzione migliore è stata quella di allestire alcuni degli spazi interni proprio con questo scopo. Quindi uffici, mensa, spogliatoi e bagni se utilizzati quelli che già esistevano. Questa è stata una soluzione veloce, economica e comoda, perché già la situazione predisponeva degli spazi che potevano essere utilizzati. In questo caso, più che dimensioni standard, c'è da osservare ovviamente la regola del buonsenso, quindi creare uno spazio che possa essere consono al numero dei lavoratori. Ma per quanto riguarda invece cantieri dove c'è lo spazio per poter utilizzare questi alloggiamenti, vediamo quali sono le misure standard. Partiamo intanto da quello che ci dice l'Allegato 13 del Decreto Legislativo 8108. Principalmente la normativa batte su quelli che possono essere i servizi igienici. Infatti ci sono dei minimi da rispettare e te li voglio mostrare. I lavabbi, ad esempio, devono essere del numero minimo di 5, un lavabo ogni 5 lavoratori, e i WC un bagno ogni 10 lavoratori. Quindi ecco che la questione che dimensioni deve avere un box inizia a essere un attimo secondaria, perché prima di tutto bisogna stabilire qual è il numero massimo dei lavoratori che si possono raggiungere in contemporanea all'interno del cantiere e in funzione di questo calibrare il numero quindi di servizi che queste persone necessitano. Fatto questo, si va a vedere quelli che sono i blocchi standard e si cerca di capire quanti ne possono servire. E a tal proposito ti voglio far vedere quest'altro documento dove io ti ho mostrato vari allestimenti. Nella prima immagine puoi vedere che è stato utilizzato un unico blocco sia per il bagno che spogliatoi ufficio, un plò, uno spazio multiuso, che sono quelli più utilizzati in genere nei cantieri piccoli. Allora, come vedi ci sono due misure che sono quelle che ritroverai sempre e costantemente, che sono l'altezza che non può essere al di sotto dei 2,40 m e la larghezza anche se aggira sulla stessa tipologia. Quello che varia nei vari moduli non sono tanto altezza o larghezza quanto la lunghezza. E infatti io qua ti faccio vedere un modulo da 4 che è quello più piccolo, uno da 5 e uno da 6. ma ovviamente non sono tutti quelli che sono presenti, ce ne sono anche degli altri e questo ovviamente le misure dipende dal numero dei lavoratori e dal numero di spazi che quindi si necessita di avere. Ci sono dei box che prevedono anche spazi missi, quindi all'interno dello stesso box preso molto più lungo c'è di tutto, quindi da un lato bagno e spogliatoi e dall'altro spazio ufficio o per esempio mensa. Chiaramente questi sono dei box di dimensioni più lunghe e quindi fai anche attenzione se poi non dovessero servire dei mezzi speciali di trasporto per questi box. Il mio consiglio è quindi quello più che altro di usare box un po' più piccoli ma magari di numero maggiore, laddove dovessero servire. In generale le caratteristiche che devono avere questi box sono che devono avere illuminazione artificiale, sebbene però ci devono essere porte e finestre che devono garantire la reazione naturale. Altezza minima 2,40 abbiamo detto sopraelevato dal terreno di almeno 30 cm, con pareti lavabili e una copertura ovviamente resistente all'acqua e alla neve. Quindi ci sono varie caratteristiche, l'importante è fare attenzione, a mio parere, al numero di lavoratori presenti in cantiere. Dimensioni standard sono 2,40 m alla larghezza, 2,40 m all'altezza e poi la lunghezza può variare in base ai moduli presenti. Ma in concreto, una volta che abbiamo capito che box servono, quanti ne servono e di che dimensioni ci servono, il passo successivo è graficizzare e rendere comprensibili queste informazioni. A tal proposito, quindi, ci aiutano i software Autodesk, che sono fondamentali per noi progettisti che dobbiamo appunto rendere le nostre idee facilmente comprensibili a terzi. Se utilizzi Autocad, il mio consiglio è di creare dei blocchi. E nel corso base, che trovi su adararchitettura.com slash adaracorsi, trovi una lezione dove ti spiego esattamente che cosa non deve mancare per la buona riuscita del tuo blocco. In più, all'interno del corso avanzato c'è una lezione dedicata ai blocchi dinamici, che penso che sia veramente una bella chicca. Ovvero, ti insegno come, da un unico blocco, realizzarne alle tre varianti di varie dimensioni e con elementi visibili o meno, perché chiaramente un box di dimensioni piccole magari avrà visibile soltanto gli arredi fissi del bagno, mentre invece un box più grande potrà avere visibili anche altri arredi, come per esempio gli armadietti, dove gli operai possono riporre i loro abiti e così via. E tutto questo te lo spiego all'interno di questa lezione, che io la trovo veramente utile. Se invece utilizzi Revit, il consiglio che do agli studenti è intanto di navigare nel web e trovare se ci sono delle famiglie che sono state già utilizzate e create a questo scopo. Qualora non ci sono, invece, no panic, perché all'interno del corso avanzato ci sono più di una lezione che sono dedicate proprio alla modellazione e alla personalizzazione di famiglie parametriche e nidificate. E quindi questo potrebbe essere uno di quei casi in cui, se non dovessi trovare un blocco di cantiere già disponibile come famiglia scaricabile nel web, non hai difficoltà perché ti insegno esattamente come fare per poter modellare la tua famiglia in 3D. Bene, se questo video ti è stato di aiuto ti invito a condividerlo a tutti i tuoi colleghi ed amici che potrebbero beneficiarne anche loro. E io ti aspetto nel prossimo video che è sul mio canale YouTube. Ovviamente se hai domande o se hai altri argomenti di cui desideri che venga parlato nei prossimi video non esitare a scrivermelo nei commenti qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!